Con un po' di anticipo, a Caserta è iniziato il periodo natalizio. Non solo l'albero in Piazza Dante, ma anche decorazioni, colori e luci in giro per le strade del centro, per avvisare ai cittadini che è tempo di creare la consueto atmosfera natalizia. Partono perciò in queste ore programmi ed iniziative per festeggiare la sacra festività. Tra i vari eventi spicca il mercatino di Natale, che dal 1 all'8 gennaio animerà Corso Trieste. A queste cose non si rinuncia mai, nemmeno in tempo di dissesto. Ecco perciò gli artigiani del legno e dell'arte culinaria, cioccolato e dolciumi nei negozi, tutto per far finta che la crisi non ci sia, perché al Natale nessuno è disposto a rinunciare. All'interno del mercatino che verrà proposto all'inizio del nuovo anno, anche una singolare iniziativa, quella della Casa Root e della cooperativa New Hope, curata dalla semplice surrita, che sfruttando il clima festoso, vuole ricordare che in un momento di difficoltà economica, come quello che tutti stanno attraversando, non bisogna chiudersi in se stessi, ma collaborare gli uni con gli altri. Contro l'individualismo e come testimonia il nome della cooperativa, nel segno della speranza. Questo è l'intento di New Hope, che in corso Trieste allisterà un gazebo, come tutti gli altri, per unirsi al resto dei commercianti. Gli articoli che verranno esposti sulla bancarella, borse, portagende, zaini, oggetti da cucina e tanti altri, saranno quelli creati dalle mani di donne migranti, con stoffe di origine africana, che unificano culture diverse. Un lavoro, quello di queste donne, che ha salvato tante persone dalla strada e da un mestiere, se così si può chiamare, ben lontano dal valore dignitoso della donna.